benvenuti a tutti quanti raga un bacio del sibe oggi come avete letto nel titolo un nuovo modulo il 4222 ragazzi questo modulo è davvero devastante l'abbiamo testato abbiamo visto che si bucano molto facilmente le difese avversarie e in più si difende discretamente bene ragazzi io vi lascio il video mi raccomando lasciate sempre un bel like e scrivete qua sotto nei commenti per farmi sapere anche cosa ne pensate di questo video io vi auguro una buona visione un bacio al sibe ed eccoci qua ragazzi siamo finalmente nella schermata delle tattiche di questo modulo come ripeto il 4222 come potete vedere abbiamo passaggi corti ed equilibrata 50 e passiamo ai ruoli giocatori ragazzi all'attaccante di sinistra andiamo a mettere torre gioche largo l'attaccante di destra andiamo a mettere attaccante avanzato completo i due trequartisti andiamo a mettere a culo di sinistra regista bilanciato e culo di destra regista svaria poi entrambi i centrocampisti ragazzi questa è fondamentale andiamo a mettere entrambi centrocampisti di contenimento falso difensore al terzino destro regista difensivo al dc di destra al dc di sinistra andiamo a mettere stopper e invece al terzino sinistra andiamo a mettere tornante infine come vi trovate meglio voi al portiere o fuori dei pali oppure va bene classico ragazzi io vi ringrazio come sempre del vostro supporto che davvero tantissimo mi raccomando se avete qualsiasi consiglio o comunque qualsiasi tipo di domanda da farmi scrivete qua sotto nei commenti io vi auguro davvero un buon proseguimento di giornata un bacio dal sibe bella raga grazie a tutti